Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va spero che state bene e che siate trascorrendo una splendida giornata. In questo video voglio dirvi la mia sull'Inter dopo l'inutile vittoria di ieri sul Liverpool per 1-0 con un gol di Lautaro Martinez, veramente bellissimo gol, che però insomma è stata appunto inutile dopo la vittoria del Liverpool all'andata per 2-0. Ci sono molti spunti dei quali parlare e devo dire che c'è anche un bel po' di amaro in bocca. Secondo me i tifosi interisti e ovviamente l'Inter stessa non ha proprio il sapore di torta mimosa che insomma gli potrebbe aver accompagnato ieri dopo la festa della donna. Però prima di non c'è la questione mi raccomando, scelgo il like al video, iscrivetevi al canale e attivate le campioni di notifiche perché è l'unico modo che avete prima di noi aggiornati in tempo reale dei video che vado a pubblicare sul canale. Ma veniamo a noi, quindi analizzando la partita di ieri. Secondo me in tutte e due le gare fondamentalmente, soprattutto quest'ultima, non ho visto proprio tutto questo divario tra l'Inter e il Liverpool. Che non sto dicendo che l'Inter valga il Liverpool, però quando inizio si diceva, no? Il Liverpool demolirà l'Inter, balle. La cosa che ha giocato contro l'Inter fondamentalmente è stata la concentrazione. Forse un po' d'ansia, forse un po' di... Troppa foga, soprattutto nella gare di ritorno e soprattutto quella di Sanchez che dopo il gol di Martinez stupidamente si è fatto espellere. Sono un giocatore della sua importanza che ormai per i 34 anni non deve cadere in quei falli stupidi. Io capisco la voglia, capisco la voglia di recuperare palla, capisco la voglia di vincere, di fare il 2-0 che avrebbe portato l'Inter supplementare. Ma i giocatori in una certa dinamica sanno che, di gioco intendo, sanno che non devono entrare. Quella palla a metà era d'alto rischio secondo giallo, che già l'aveva rischiato il rosso Sanchez prima, per un fallo ben più grave. Ma quando c'è questa palla a metà, non intervenire in quel modo, perché se becchi la palla, l'80% va addosso all'uomo. E non hai il tempo materiale per ritirare la gamba e sai che se poi vai sulla caviglia dell'avversario ti sparano il giallo in faccia. che sarebbe stato ovviamente il secondo giallo e quindi fuori. Quindi grosse colpe di Sanchez, nonostante abbia giocato molto bene, diciamo nei minuti di difficoltà finali dell'Inter. Perché comunque se, secondo me, una partita 11 contro 11 sarebbe potuta essere ben più, ben diversa. Ma fondamentalmente le problematiche riscontrate in questa partita sono state le stesse d'andata. Un Inter che per parti di partita ha veramente condotto il gioco, ha messo in difficoltà un Liverpool. Però davanti, cavolo, ragazzi, dovete fare gol. Cioè, il Liverpool è stato cinico. Sia l'andata, o meglio, ha l'andata soprattutto. Questa volta, in questa partita ha sfortunato, perché ha rischiato molte volte di mettere la palla dentro. Vedersi la traversa, vedersi il palo, vedersi una delle ultime occasioni sbagliate, sparate in aria. Però fondamentalmente il Liverpool ha avuto quel cinismo che l'Inter non ha avuto. Io ho ancora negli occhi quei 20 minuti della partita d'andata dove l'Inter ha messo assolutamente sotto il Liverpool, ma non l'ha buttata dentro. Quella bellissima azione, non mi ricordo se è partita Brozovic o da Barella, poi palla Perisic, cross in aria e mi pare Giacomo, non mi ricordo se è un po' di tempo fa, che non l'ha buttata dentro. Ragazzi, contro le grandi squadre, quelle palle vanno buttate dentro con i secoli, ma con il fondo schiena, con la spalla, con il naso a costo di romperselo con la testa, devi buttarla dentro. Perché le grandi squadre, come il Liverpool, sono ciniche, quindi come all'andata, poche occasioni, se non erano due piazzati, due gol. Quindi l'Inter lì ha peccato. Un Inter che rispetto all'andata è stato ancora più in difficoltà sulle fasce, più precisa quanto meno all'andata, perché Perisic all'andata ha fatto veramente un partitone, grandi palle in mezzo. Questa volta se Adam Frisch e Perisic è un pochino imprecisi, ma a voglio dirò delle cose forti, e molti di voi secondo me mi criticheranno. Il Liverpool è un grande collettivo, Klopp ha creato un grande collettivo, ma di giocatori fondamentali ce ne sono pochi. Alisson, Van Dijk, Salah, intendo utilissimi all'economia di gioco in tutte le fasi di gioco. Ma gli altri, ragazzi, io non penso che in un calcio moderno, sebbene i terzini debbano stare molto alti, debbano creare gioco. Ragazzi, i terzini e il Liverpool, se vengono attaccati, sono scarsi, sono scarsi. Si è visto all'andata, quando Alexander Arnold e Robertson hanno ricevuto palle alle spalle, gli esterni dell'Inter hanno fatto quel che cacchio volevano, e poi è normale, se poi a loro, che sono soprattutto Alexander Arnold, un'ala prestata alla difesa, gioco forze che si può attaccare, crea molte occasioni. Ma io che sono della filosofia che il terzino debba saper spingere, ma debba anche saper difendere, voglio dire, Zambrotta a livello offensivo era molto meno pericoloso di Alexander Arnold, ma come ruolo di terzino, come concetto di terzino, era cinque volte superiore. Cinque volte superiore. perché sapeva attaccare, sapeva difendere, e sapeva fare entrambe le fasi. Alexander Arnold, in un calcio moderno, è un grande terzino, per così chiamarlo, ma si è chiamato a difendere, ragazzi, ha le sue raccune clamorose, ma lo stesso è Marcello. Marcello è sempre stato scarso a difendere, ma anche Roberto Carlos è sempre un pippone a difendere. Sono terzini che vanno, che sono ottimi, inseriti in un contesto di gioco. Quindi, se la squadra gioca a difesa alta, se va a pressare, se gestisce il gioco, ma se una squadra come Liverpool gioca una partita non gestendo il gioco, parlo generalmente parlando, la difesa fa acqua da tutte le parti, tranne Van Dijk, Van Dijk, fa acqua da tutte le parti nei personaggi di Alexander Arnold, di Robertson e di Matip. In avanti, ragazzi, c'è Salah, che è l'unico imprescindibile, Mané, mettiamo così, ma il resto, poca roba. Cioè, se noi confrontiamo, adesso vedo un attimo ancora le formazioni, Mané, Iota, Salah, contro Bastoni, De Vrij e Skriniar, a mani basse, secondo me, la difesa dell'Inter può affrontare questo attacco del Liverpool. Anche Salah, stasera, non è che abbia fatto, eh, il maradona della situazione. Ha giocato bene, ha creato dei problemi, ma definirlo il... il Messi d'Egitto, va bene, ok, sta lì, va bene, però nel senso, definirlo, il fenomeno clamoroso che ti va a creare occasione da destra manca. No, no, no. Il Liverpool, se lascia i spazi, sono fortissimi, perché sono tutti veloci, quantomeno sui ruoli fondamentali. Mané, Salah, Alexander Arnold, Robertson, Curtis Jones, però ragazzi, al di là di quello, cioè, io non sono estimato di questo Liverpool, ragazzi, a me è un'ottima squadra, ma, bellungi da definirla, oh, la squadra è fenomenale, ottima squadra. sulla carta è dimostrato di essere migliore dell'Inter a livello di realizzazione, di cinismo, di esperienza in questa competizione, soprattutto negli ultimi anni. Ma da qua di finire gli invincibili del Liverpool ancora un po', no ragazzi, cioè, non ci sto, non ci sto, non esiste. Ripeto, saprò, so, di attrarmi le critiche, però, ripeto, questo Liverpool era battibilissimo dall'Inter, se l'Inter fosse stata più lucida e più cinica. Perché se non avesse perso la bambola all'andata, adesso, staremmo parlando di un'altra partita. E anche in questa partita, le azioni da gol che si è mangiato all'Inter, che potesse, se fosse stato in vantaggio di 2-0 al decimo del secondo tempo, nessuno si sarebbe lamentato, salvo l'attraverso di Salato, 2-1, mettiamola così, in fuori dell'Inter, nessuno si sarebbe, si sarebbe dovuto lamentare. Però, tant'è. Quindi, d'accordo, complimenti al Liverpool, perché sono passati, chapeau all'Inter, perché ha fatto quello che doveva fare, una menzione di disonore, tra virgolette, a chi ha fatto le cavolate, tipo Sanchez, Martini si è tornato al gol, inutile, però, ragazzi, ripeto, chapeau all'Inter, ha retto bene, ha retto bene, non c'è stata quella caporetto che si era prefissata, eliminazioni che ora incideranno molto sul campionato, attenzione, perché se l'Inter però fosse passato, magari il Milan avrebbe avuto un po' quel quid in più, quelle percentuali in più, adesso con l'Inter fuori, che può concentrarsi su una competizione, o meglio, sul campionato, più che altro, e ragazzi, il Milan deve tremare, il Milan deve tremare, perché ora l'Inter si fionderà lì, si fionderà lì sul campionato, e guadagna percentuale per quanto riguarda la cessione, la cessione, sì, cione, la vittoria appunto del campionato, ovviamente, fosse l'Inter o non, fatemi sapere qui sotto come ne pensate, se siete d'accordo o siete in disaccordo totale con la mia disamina, ripeto, fatemi sapere qui sotto i vostri commenti della partita che sono tutti ben accetti sia i tifosi dell'Inter che i tifosi di altre squadre, quindi diamo anti-calcio, spero che vi sia piaciuto, in tal caso ci dobbiamo leggere il video, iscrivetevi al canale, tiratevi a cambiare i motivi per venire sempre aggiornati, vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!